Un messaggio a Ciro Mariano, il vecchio boss della Camorra dei quartieri spagnoli. Sarebbe questa l'ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori dell'antimafia che indagano sulla stesa di giovedì sera in Vico Colonne a Cariati. Ma anche la data, il 31 gennaio giorno di San Ciro, potrebbe non essere stata casuale. Otto i bossoli refertati dai agenti della Polizia di Stato che hanno attraversato il dedalo dei vicoli a Serine Accese dopo una telefonata arrivata in questura poco dopo le 23. E allora, una volta giunti sul posto, hanno impiegato poco a ricordare che in quel vicolo d'aprile scorso abita nuovamente Ciro Mariano, per tanti opicozzo storico esponente della famiglia che tra gli anni 80 e 90 dominò la zona. L'ex boss è tornato a casa dopo 20 anni di carcere, attualmente ha solo un processo in appello per il quale la procura ha chiesto comunque la reclusione. Ma Ciro Mariano oggi potrebbe essere tornato per continuare a governare quelle strategie imprenditoriali criminali avviate dal fratello Marco Mariano. Indaga la squadra mobile diretta da Luigi Rinella sul campo, ci sono investigatori esperti che conoscono bene il territorio e le logiche eseguite dalla Camorra. Perché, come scritto in una relazione della DIA, la Camorra a Napoli non è quella dell'apparanza dei bambini ma è ancora saldamente nelle mani delle vecchie famiglie criminali e muta attraverso un naturale cambio generazionale.